Tutta la famiglia Elysium vuole essere vicina al caro Francesco e a tutti i suoi affetti che ormai da mesi lottano contro il male che l'ha colpito. Vogliamo contribuire con un piccolo gesto di solidarietà. Tutto il ricavato dell'asporto e del delivery sulle pizze di domani, venerdì 22 maggio, della nostra struttura sarà devoluto alla raccolta fondi per le cure di Francesco, del quale sentiamo profondamente la mancanza e a cui quotidianamente rivolgiamo il nostro pensiero. È la nota stampa della struttura Elysium a sostegno di Francesco Merola e il 35enne di Capaccio Pestum che lo scorso gennaio è stato colpito da una forma grave di encefalomielite che lo ha portato a rimanere purtroppo paralizzato. Diverse sono state le iniziative per sostenere Francesco in queste settimane e grande il cuore dei cilentani quando bisogna raggiungere un risultato importante. Tutti insieme sosteniamo Francesco con questa bellissima iniziativa.